di pingo andiamo dove? ma c'è un'ombra della botte ma è un punto nuovo qua qua ma che lea? quelle quelle sono rosa? che cos'è quelle rosa? allora ci sono delle scritte rose che praticamente hanno un'invasione di navicelle dove... che sono comandate da botte... da tipo i botte cattivi che ti sparano con quelle navicelle puoi entrare dove? che ti tolghi un boom sprenta e praticamente se tu distruggi quelle navicelle fai cadere il botte dopo aver scuso il botte ti dà un'arma e anche... e puoi avere... ma io ho visto che puoi guidare i cosi però no eh si puoi guidarla però prima devi distruggere il botte eeeh ehm ma come c'è fattoria? ahm... ma ehm... l'ho cambiato un po' ma c'è qualcuno mi sa ehm beh mi sta attento che ci sono dei botte cattivi che ho dentro ma c'è un'arma dai ma c'è un'arma dai ma giusto come eh? ma perchè? no ma con tutti quelli a prendere no ma hanno modificato tutto hanno modificato tutto dai ma che cavolo è? ma chi è che mi spara? ahm... 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 c'è qualcuno che mi spara? ehm... no dai ehm... come faccio io? ma mi darò dai cos'è che fai? è mai io che... chiudi ma lui si scara ma chi è? ma addirittura è entrato dentro qualcuno va a prendermi la scheda? dove sei lì? si si arrivo io ma non mi c'è la capa pure, è pazzesco dove hai tesoro? ma sono attavata, come sono attavata, mi ha ammazzato vabbè io vado a prenderli, addio ma dai vai vai ehm... ah ma l'ingotti ti ridà ancora però spaccando le coppia con te doppio ci sono altri che vende con tutti quelli ma chiaro meno ci sono più ma riesco a dobbiamo fare una cosa ecco, adesso è vero cosa sto facendo? che bello che è quello dai oh mio dio che era un pezzo è andata bene ma dove si ti giocano? qualcuno è un pezzo a casa, madonna a me non si vede con la casa strana ma... no, chi è? ci sono le cose pure, dai faccio dietro età vabbè, prima di tutto vedete che vuole spara ma non ci sono le telecamere quelli che sparrano no, ci sono tipo le telecamere dopo arriva nei voti che ti spara ma sono le con le torrette, ci sono cazzo hanno modificato il piccone quello che uso io le scudi non ci sono tivi scudi ma non c'è poca roba questo vedete ma mi scudi ce l'ho eh dammi la cappa lo piglio quella cappa qualcuno ha eliminato è stata lei si 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 passfond no vada c'è cosa qua 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 no vada c'è una bella ora mi scudini dai ho ancora dai ho ancora ma le prese cose no vada c'è un milione cazzo cazzo che cazzo mi ha fatto lanciare a farlo da cappa no vada cazzo hanno modificato il piccone che uso io adesso non si ferma più hai preso un scudo grande? hai preso un scudo grande? continua a piccone ragazzi eh si lo scudo io buono bene sto comunque con il match time lì da fastidio alle chat io devo mettere la nascosta ma non si poteva si ma perchè devi mettere il watch time non il tuo me time ah è lo stesso è lo stesso ma il time è uguale è la stessa cosa come no no è divertente è uguale ma il time è che lo puoi studiare lo cuciato oh guarda ragazzi è stato qui da qualche parte ci pensavo ma chi è che sta sparando così questa roba qua eh infatti ah mi hanno tolto no ma adesso puoi fare il farm hai visto? car 400 ma perchè dalle m4 dove passare al farm se c'è una assenza eh c'è un po' di lag ho voglia studiare un casino farò sta cosa ma che la roba c'è un lag su cosa succede? ma non mi dava niente va bene ma no no c'è l'altro perché beh il server è pieno che cazzo no ma non aspettate aspettate devo passare nessuno non ti devo passare nessuno non ti devo passare nessuno ok 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 ho trovato un altro solo che l'hai preso eh non hai preso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 3 11 15 15 15 16 15 16 17 18 20 19 19 19 19 19 20 non ha detto qualcosa le munizioni se non ho avuto un po' di vista si fa una nuova niente lo scambio non è chiaro e poi c'è un'ultima tante e' un po' di un anno che ho trovato aria un po' di stimato il bug dei cecchini adesso non ti ho guardato ma c'è il cecchino allora si ma l'hanno sistemato il bug eh che miravi col mirino e ci bugava tutto no ma io mi guardo sicuramente almeno adesso qui non mi si è eh ma lo vedevi solo nelle modalità quelle creative e cecchino c'è no ma dov'è il tesoro? c'è un tesoro qua ma tu quando fai che è la roba ti laggo o no? ma perché gli dici che c'è un tesoro qua? ma io vado addio mi dò andà non so mi capisco ma gli ingranaggi non esistono più adesso eh andiamo per cadire dalla safe faccio il famas non vado c'è io c'è un po' di ma si parla più da dove c'andava no me e eh amma perc***o CR ma c'è gente qua è un botte per fare lo vado ad uccidere io vorrei uno scudo però non provo a saltare a sparare dov'è? dai no oh merda no spero di farcela ma non sono sicura no me la batto del botte dai ma non ci credo ma no chi è che mi ha quasi cecchinato? cecchinato uno che si impara non ci sono più le rotelle oh qualcuno sta cercando di cecchinarmi io sono morta ci sta qua non so neanche da dove mi fa bisogno di cecchinare madò cecchino qua eh oh c'è il cecchino qua bro me lo dai non lo non lo non lo non lo non non so se è quello potente quello veloce non so se è quello.. devo cambiare piccone perchè lo hanno modificato anche questo non c'è parola questo qua non è quello che c'è dove è? uno qua appuntato ma quale è che ma quale buono per le prese ce l'ho già per l'argomento di un po' e' addio ho fatto una sfida ecco mi piace cazzo però scudi zero eh ho aperto 8 mille atteggiare non ho dato uno scudo e' la trovate tanti e' il cazzo quando mi dice che c'è un dono da scoprire ma quattro metà la ricorda per quello che fa libri anima sul tattico bianco come mai dici che e' la quale o l'anno ma sembra un lanciagranate per il mio intervento sui stessi c'è un po' c'è un po' non so c'è un po' c'è un po' mi sono da nuovo perché non me la segna scendere il grigio c'è un po' c'è il cicchino però 2.8 1 1 1 ero più vecchio ma non mi segna la zona grazie a me che è un attimo che si ha lasciato un altro web il tuo cliente 4 8 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 9 9 9 9 9 9 10 bello così mi piace vedi così è molto meglio mi piace già ma non ti dà niente questo qua che cazzo ma non c'è il cecchino deve essere anche i scudi magari hai bisogno di un scudo da me eh c'è da che c'è da i scudi ma noi avevi due ne avevi detto ma mi hai dati tu due mini scudi se no non neanche avevo più di dire no il scudo è grande non l'hai preso quello che ti avevo dato io prima no ma lo sei scemo me l'ho fatto lasciare il levo cecchino forse non hai capito però vedo nessuno no parole andiamo lì sopra sì sì ma vorrei che va a pigliare sto scoprire sto posto qua vaga pensate sempre che io non riesco a costruire andare su mi sa guarda guarda non mi dà scudi neanche a morire è pazzesco sono granate però eeeh adesso ci sono botte dappertutto adesso wow bello com'è beh non c'è nessuno comunque il watch time c'è ancora zero quindi è tutto buggato buggato ma non hai capito ma ma c'è wow 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 che è oh ma allora si scemo ma c'è la cosa che mi ha preso ma i lupi ci sono ancora vado a ucciderli eh nooo c'è lupi oh merda ma ma non so se sono botte questo andiamo con il cecchino oh merda ma che mi raccoglio lezionite di esempio ah eccoli i miei scudi ho trovati eh era ora uno vabbè non ne piglia roba di quelli che c'è ok no tu mi scudi ma lo scudo io ce l'ho eh ebbè eh ma la cellulite non lo pigli come prima c'è un po' che aspetti addio ma io faccio tutto col cecchino che pensi che se lo si sci no madò che cecchino c'ho però è il mio preferito questo eh ma l'ho cecchino adesso non si possono potenziare più le armi quindi meglio a me piaceva prima però creare affare a me no fa un brodo ma anche c'è il cecchino addio che è l'arco ma infine anche l'arco ma anche qua c'è un cecchino ma c'ho solo una munizione che cavalli me ne faccio è difficile no che cazzo no viva tu ah 100 500 si vabbè non ho preso in testa però c'è una jump oh ma ah non mi si jump ma io vedevo una jump però mi avevo puntato la jump devo riprendere la mano con cecchino e ora che sei che ho preso ho preso qualcosa eh cioè il bomba viola potrei farlo diventare quello lì quello a leva ma perché dove farlo diventare quello che fa più cagare ma comunque il fucile a leva bianco c'è 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 chilo bianco pure il fucile a leva bianco fa 93 aspetta no allora è potentissimo dici 93,6 di danni mentre lo fast ne fa 108 cioè praticamente quello bianco ma infatti è il contrario cioè ma pure l'em4 lo puoi trasformare a a famas che fa più cagare cioè che cazzo è quello bianco cioè il fucile a leva ma là c'è un tesoro eh non vuol dire dove? non me lo punta quella oh merda io uso la jump così guarda bene no c'è gente in macchina oh oh sì madonna no 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 ci ridå gorum oh negli amore c'è gente no 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 qualcuno mi può aiutare? ma non lo colpisce ecco, uno l'ha battuto eh si, bravo ma botte! ma chi è? si grazie no ma quando è uccito il botte, porca puttana! ma lo uccisci? dai uccidilo! dov'è? mi fatti fatti ucciditi vieni qua, vieni qua, vieni qua, uccidete il tuo cuore, è scarsa come la merda curano non riesco a colarvi tutti no come tutti? non ho abituato, non ho capito se l'hai un medico, sennò te lo do allora te lo do grazie no, c'è gente! ah merda ciò però si, vedi che da tanto con un unicicino no, c'è gente! ma che fai? ah merda oh, abbiamo visto già no, c'è gente